Causa di furto, difensore Don Ansemma Tartaglia. Signori, ecco la giocata, ecco la giornata, tanta attesa, tanta attesa per lo svolgimento di questa causa. Io non sono mica venuto qui a vendere fraule, fraule e bubule, ma sono venuto per ricamare a Terada. E per reclamare e tutelare i diritti del giusto. Se ricordi ognuno di non usare olio e livore, odio il livore, perché se c'è qualcuno fra voi che si è astagnato, che si è sdegnato con l'imputata, allora non potrà avere luogo il procedimento. E sto sempre dietro un articolo del Concepanale, del Codice Penale. Io conosco la storia di Cosei e solo a me basta naga, basterà l'animo di difenderla. Saverio è troppo, Saverio è troppo, l'onorevole procuratore, procuratore con l'accusato. E Giorgio è pazzo, e Giorgio è pazzo dalla lattuga, dalla lettura del processo. E lei è stata sempre sergente di guardia, sorgente di graudio per gli infelici. Ed oggi quando si fiera, si mostra. Scusate signor Presidente se arrivo a Tonda, ma io ho indorciato questa veste e sono obbligato a compiere il mio ministero e lo comprerò vivo il cefalo a qualunque prezzo, lo comprerò vivo il cielo a qualunque prezzo. Qui non ci sono cose di serio da accusare l'imputata, e la si vuole condannare. Chi è stata a Londra? Chi è stata allora che la calunniata è stata la testimonianza della portiera? Cinque sordopezze, cinque sordopezze, cinque sordopezze, e non bisogna crederle. Ah, patate, cipolle, patate, si può ingannare una falsa deposizione. Ti possono scannare, ti possono scambiare per un malfattore, e ti si condanna. Sì, ti possono, signori, io vendo la sorbetta, io vendo, signori, e vengo all'osservente. L'accusata non è ladra e può sperare, può sperare. Ah, allo scarparo, signori, ah, non scappate, non scappate, signori, dall'idea che ella sia colpepe e colpevole. Scacciate dall'animo vostro si fatto pensiero. Ah, lo scacciaragno, ti scacceranno, e tu sarai libero come nascesti. Figli e mulo, fido e mute il mio labbro davanti ai giurati. Tengo tra essi dei cuochi buoni, e dei cuori buoni, e delle menti insigni da poter distinguere il falso del vero. E sono certo che essi una buona setella, esca una bella sentenza. Signori, io mi sono fatto sordo, signori, io mi sono fatto sordo a tante voci di effimere innocenza. Ma ora vedi che questo non è il caso. Ah, persone, persone di striglie, di stinte, seggie, e sagge, ho pariato. Ho parlato e mi auguro che la mia ringa, la mia ringa, non l'abbia perduto. Ora tosto, ora tosto, prego il signor Posellente, presidente, e i cittadini giurati, di salare questa giovine, di salvare questa giovine. E se potranno, di accordarla a me, le circostanze attenuanti, ho finito.